E' scattato il conto alla rovescia per il nuovo Ponte Buriano, i dettagli sono stati presentati oggi in Regione. C'è da completare la progettazione, la provincia di Arezzo e il presidente Polcri accelereranno questo profilo e poi può essere appaltato, può essere realizzato. Comunque sia deve essere realizzato in cinque anni da oggi, queste sono le condizioni del Fondo di Sviluppo e Coesione. E contemporaneamente il Ponte Buriano, sappiamo, evoca un'importanza straordinaria per la Toscana. Molti storici dell'arte lo considerano il ponte del 1277 a sette arcate come una delle parti integranti della Cioconda di Leonardo. Il fatto di poter vedere quel ponte sotto il profilo storico, perché sappiamo che c'è accanto il ponte moderno che ne evoca la funzionalità sulla Cassia Vetus, qualcosa che arricchisce tutta la Toscana. Tutti hanno sottolineato il lavoro di squadra che porterà ad Arezzo 21 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione. Così sorgerà la nuova struttura oltre alla viabilità circostante. La progettazione, ricordo, è stata fatta da una società spagnola, prevede proprio che il ponte sia molto lontano da quello di Ponte Buriano. Io credo che questa sia una delle opere più importanti per i prossimi sette anni proprio in Regione Toscana, credo che sia la terza per valore e significherà anche da questo punto di vista che le risorse sono state concentrate in un progetto, dunque non vengono disperse in mirri e rivoli. E questo credo che la politica, e in questo caso il Governo da una parte, la nostra Regione, abbiano fatto il loro dovere.